Ospite del nostro telegiornale stasera è Spedito De Marino, chitarrista, benvenuto. Buonasera, grazie. E allora, lei sarà protagonista domenica alle 20 alla Sala Pasolini a Salerno di un concerto per Murolo, un omaggio al grande Murolo. Sì, io sono stato con lui 21 anni, dal 1982 al 2003 fino a quando ha reso l'animo a Dio. Sarò coadiuato da sei importanti artisti, Marina Bruno, Martina Vasaturo, Marta De Marino, Diego Cantore, Gianni Marcellini e Alessio Coppola, per la direzione artistica di Giampiero Fortunato, per il managgimento di Giuseppe Di Capua. E nella circostanza, le edizioni Albatros hanno ristambato un mio libro sul Roberto Murolo unitamente ad un disco. Come nasce l'idea di un concerto per Murolo? Beh, intanto abbiamo deciso che il 19 gennaio di ogni anno lo celebriamo perché ricorre la sua data di nascita. E quindi in questa occasione vogliamo portare avanti quei valori della grande canzone napoletana, dell'epoca d'oro. E noi nel caso Inispecie portiamo 127 anni di canzoni napoletane. Dal 1876 la data di nascita del papà di Roberto, il grande poeta Ernesto Murolo, fino al 2003 il decesso del grande Roberto. Qual era la forza di Roberto Murolo? Beh, anzitutto questo modus vivendi dei napoletani. Roberto Murolo era la sintesi da Edoardo De Filippo a Totò, i suoi racconti, i suoi inedoti. Quest'uomo che ha vissuto le tradizioni più genuine di questo popolo, che hanno fatto grande il mezzogiorno e che ancora oggi possono dare lezione ai giovani e soprattutto alla nostra campania. Grazie, grazie mille. Allora ricordiamolo, domenica... Sì, alle ore 20 alla Sala Pasolini a Salerno. Grazie, grazie di essere stato nostro ospite.